Quest'anno la 34esima edizione del premio 12 apostoli sostenuto da Montblanc ha incoronato una nota firma della carta stampata, Massimo Gramellini, vice direttore della stampa, per la sua graffiante e ironica penna della rubrica Buongiorno, dove scrive commenti e storie del nostro tempo e come dice il materiale non manca. Le storie ci sono sempre state e sempre ci saranno e il giornalismo che piace a me è quello delle storie. Io tra l'altro sono uno che nel Buongiorno in realtà fa delle analisi, dei corsivi, però da lettore la cosa che preferisco è leggere i racconti, le storie. Mi piace farmi cullare dai grandi racconti. Dopodiché è chiaro che l'epoca che stiamo vivendo si presta particolarmente a questo genere di trattamento giornalistico. A Gramellini abbiamo chiesto un giudizio sul premio 12 apostoli. Come tutti i premi si caratterizza per la giuria. Un premio è grande, quanto è grande la giuria, questo premio ha appunto 12 apostoli che meritano il nome che hanno, senza voler mancare di rispetto. Ai 12 originali diciamo, però certamente nel mondo dell'informazione e della cultura questi meritano assolutamente l'appellativo che hanno avuto. Per la sezione riconoscimento all'arte il 12 apostoli è stato assegnato al celebre regista Ermano Olmi, maestro del cinema italiano, tornato dietro la cinepresa per riflettere e far riflettere sull'attuale tema dell'immigrazione con il suo ultimo successo, il villaggio di Cartone, presentato a Cannes e per il quale ha avuto qualche critica. A Olmi abbiamo chiesto perché in questo suo film ha accostato la figura di Gesù a quella degli immigrati. Cristo è stato un extracomunitario rispetto non solo alle istituzioni del suo tempo e delle sue terre, ma lo è soprattutto in senso spirituale. Voglio dire, Cristo è colui che affronta qualsiasi sentiero perché sa che prima o poi incontrerà un altro uomo. Quindi cosa sono questi se non eroici atti di speranza a cui risponde questa speranza l'uomo che incontriamo? Quindi Cristo è un emigrante, è sempre in cammino.